Tutte le prime domeniche del mese in piazza San Zeno a Verona si trovano collezionisti e venditori di mobili, abbigliamento, accessori e quadri di antiquariato. Una mostra da non sottovalutare, infatti considerata uno dei mercati più ricchi e seri del nord Italia. Mobili, quadri, sculture, ceramiche, gioielli, tappeti antichi, modernariato e vintage solo per intenditori e collezionisti. Art Antique è per chi da sempre rincorre ai mercati e mercatini alla ricerca di pezzi di storia da rubare al passato. Ogni prima domenica del mese in piazza San Zeno per loro la caccia è aperta, a disporre... Espositori principalmente di antiquariato, modernariato e oggi anche molto di moda e vintage che vengono nella nostra bella città a disporre le loro cose e a proporre questi bellissimi articoli. Quanti espositori possiamo trovare? Sono veramente tanti. Circa 270. 270 espositori che vengono davvero da tutta Italia? Sì, veramente da tutta Italia. Sì, abbiamo espositori che arrivano da tutte le città del nord Italia. Diciamo sia da Toscana, abbiamo Massacarara, Milano, Torino. Abbiamo due o tre espositori che arrivano da Torino, uno di quali è estremamente forte. Ci portiamo un nome importante nel nostro ambito, che è qui vicino, fra l'altro lo possiamo andare a vedere. Poi Veneto, città Veneto, l'abbiamo praticamente tutti. Abbiamo un espositori che arrivò da Roma, quindi siamo estremamente soddisfatti. In 11 mesi di quello che siamo riusciti a fare. Devo dire che l'assessore Corsi che ha creduto in questa nostra manifestazione ci ha dato la possibilità. Prima in Porta Paglia, io ora da due mesi a questa parte qui, in questa fantastica location, con alle spalle mi viene la pelle d'oca a parlare nella nostra Basilica di San Zeno. Siamo entusiasti sia del risultato che per quanto riguarda gli espositori, sia per quanto riguarda i visitatori che stanno rispondendo molto bene, anche perché stiamo promuovendo veramente tanto la manifestazione. Qualcosa si trova anche per chi nel vintage vede una moda e uno stile. Un bottone, una pelliccia, un abito o un cappello, un disco o un libro. Tutto ciò che ha una storia e una vita e può diventare souvenir. E piccole sorprese per completare il tuffo nel passato. Non soltanto oggetti di antiquariato, anche mestieri antichi. Anche mestieri antichi come Gaio il Calzolaio che sta illustrando le scarpe al nostro presidente, di cui oggi è anche il suo compleanno. Festeggiamo con un bel sole, è un bellissimo mercato. Grazie per averci seguiti anche oggi. Continuate a rimanere in compagnia dei programmi di Telenuovo. Io vi ricordo che potrete rivedere questo speciale dedicato agli eventi anche online sul portale web www.telenuovo.it. Arrivederci. Grazie a tutti.